Ciao, sono Fabio, ho 24 anni e sono laureando in scienze e tecnologie agrarie. Ho scelto di fare servizio civile per avere la possibilità di fare un lavoro che mi formi professionalmente. È sicuramente un ambiente nuovo, quello delle energie rinnovabili, in cui serve una professionalizzazione maggiore che non in altri ambiti. Il progetto della provincia l'ho conosciuto durante le elezioni stesse del servizio civile, ma mi sembrava sicuramente il più completo e quello che professionalmente mi formasse maggiormente. Nella maggior parte delle volte faccio degli studi sulla legislazione e sulle tecniche per quanto riguarda le energie rinnovabili agricole. Ho fatto dei corsi di formazione per le energie rinnovabili in cui ho imparato a conoscere e ad approcciarmi sia alla legislazione che alla pratica. Il servizio civile può fornire una formazione professionale in più e comunque un approccio al mondo del lavoro.